Pallare conquistato da Palombo, c'è ancora Cassano, Palombo invece va dritto per dritto, Palombo, prova la conclusione, Palombo! E la Sampdoria continua a sognare e lo fa con Palombo! Antonio Cassano, Cassano, c'è l'inserimento di Mannini, ancora Mannini, posizione regolare, Mannini! Ancora Mannini! Palombo dentro per Cassano al volo, la parata di Curci, Padalino! E la Samp riscrive la storia! Il cross di Terzi per Ekdal, salta Poli, e la palla resta lì! E c'è la conclusione da parte di Ghezzal, la parata di Castellazzi, al limite, Fini! Fini, 3-1, il gol di Fini con deviazione! Ancora Cassano, altro stop meraviglioso di Cassano, che serve Bazzini! Padalino arriva! 4-1 per la Sampdoria, ma benvenuti all'Antonio Cassano Show! Bravissimo!